Back in ETV Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di Balconi TV Trento. Io sono Jenny e oggi qui sulla bellissima terrazza del rifugio Bindesi ho il piacere di ospitare Patrin Moskain. Vi lascio subito con il suo brano Lie or Truth. Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Come on, darling, you can do what you want Every day you can choose to walk to the light, to walk to the end Play your heart Play your heart Play your heart Play your heart a night you're all full of love when you go to bed a night you're all alone and you can choose to drink a lie or to dream to three on the morning I see you good world and you can choose to walk to the lie or to dream Thank you, thank you Patrick Thank you Permesso Ti chiedo di presentarci gli altri componenti del gruppo Aspetta che arrivo Prego, sì sì, ti lascio il tuo tempo Hola Volevi gli altri membri del gruppo? Sì, presentaceli Allora, beh All'armonica Marino De Bartolomeo Caro amico, grande compagno di viaggio Abbiamo viste tante Alla batteria, l'unico insostituibile, magnifico Jordan Grazie E al basso, nella sua figura intera E nella sua magnificenza Walter Forterell Abile cesellatore di note Quando suona Abbiamo notato Da quanto suonate insieme? Con lui esattamente non lo so Ma comunque, diciamo, dai Un paio d'anni che assecondano le mie pattugne musicali Ti assecondano Sì, decisamente E questo brano che ci hai portato La Your Truth Che significato ha per te? È un brano molto importante In un certo senso Non per quanto tempo ci abbia messo a scriverlo Perché credo qualcosa tipo 35-45 secondi Una cosa del genere Parla di... Boh, come dire È meglio dire la verità È meglio dire mentire Cioè, quando è opportuno fare una cosa o l'altra È alla fine dei conti E quando chiudi gli occhi Sono solo a fare a cittuoli Non di quello che hai scelto di fare Ecco In sintesi di questo Va bene Invece il tuo... Come riesci a trovare l'ispirazione Per scrivere le musiche e i testi? Hai un momento della giornata ideale O qualsiasi momento va bene? No, non c'è nessun momento in particolare Non ho nessun tipo di pressione Non ho nessuna necessità di farlo Nemmeno E quindi Quando viene, viene Insomma Il concerto che porti più a cuore qual è? Beh, non è proprio un vero concerto È stato un momento magico In un settembre di qualche anno fa Al Café des Arts A Torino In cui ho conosciuto per la prima volta in vita mia Quello che poi è diventato il mio mentore musicale in assoluto Che è Angelo Ledbelli Rossi E lì ho avuto la possibilità di scambiare un paio di note con lui E lì è cambiata un po' la mia vita musicale, sì Per chi da casa volesse continuare a seguirti, come può farlo? Beh, a parte la mia pagina Facebook Patrick Musken Ed è anche un sito di cui non... Cioè Patrick Musken punto qualche cosa che non mi ricordo Ok, lo metteremo sotto titolato Sì Ve l'ho mandato E poi nient'altro C'è qualche giornale così Non so Uscirà a breve anche un CD? Esattamente, sì Cioè non so se proprio a breve Escirà un CD per la Good Luck Factory Di Thomas Guiducci Che è un artista fantastico Anche oltre ad essere un abilissimo produttore musicale Per la musica che amo io Allora lo aspettiamo qui a Balconi TV30 Eh mi auguro Mi auguro di sì Perché merita molto, sì E uscirà, come dice lui Mi dice lui, quando è pronto Ok, quando è pronto lo aspettiamo Volevo chiedere a voi Com'è suonare con Patrick? Tendi pure il suo Jordan, com'è suonare con Patrick? Allora, suonare con Patrick è fondamentalmente tre cose Cioè divertimento Rilassamento E Il senso dell'umano Della semplicità Dell'emozione Che è tipico del blues E di quello che Patrick Riesce a mettere Nel blues Nel suo blues E quindi Personalmente ho imparato tanto Personalmente Ho imparato anche a Godere di un'amicizia Di una persona vera Che a tanti potrebbe sembrare un po' Come dire Così Atteggiato Ma in realtà è veramente così Non è snob Assolutamente E chi lo conosce Lo apprezza veramente Questa è la musica di Patrick Bene Avete imparato qualcosa da Patrick In questi anni Ma sicuramente Oltre all'italiano E l'ottima pronuncia inglese Direi anche Soprattutto A parte gli scherzi Soprattutto l'umiltà Perché Lui mette molta passione In quello che fa Senza però Fartelo pesare E quindi Quando suoni Quando fai Tra virgolette Musica Arte È la cosa più importante Ecco Questo è Va dato atto A lui Belle parole Patrick Sei orgoglioso Di avere un gruppo così Emozionato Emozionato Tu so che sei un po' timido Ma vuoi aggiungere qualcosa? Con Patrick Non è che ci sono soltanto Con Patrick Condividiamo praticamente Tutta la vita musicale Ho iniziato a suonare con lui Vado avanti a suonare con lui Spero di continuare In questa maniera Quando non c'è tutta la band Comunque siamo io e lui Si gira Si gira parecchio Per Bastare Per tutto il nord Italia Entrambi Con Blues Made in Italy Abbiamo Un impegno Che portiamo avanti Per la condivisione In Italia del blues Perché Patrick È vicepresidente Patrick è vicepresidente Io sono Membro consigliere Cos'è che sono? Membro consigliere Membro del direttivo Un membro Del direttivo Membro Per il resto Patrick è un amico Alla fine Oltre che Con lui ho iniziato Ripeto E con lui vado avanti Perfetto Grazie Qualcos'altro da dire? Ringrazia menti da fare? Beh Sembra veramente Però A questo punto Non devo fare altro Che ringraziare Proprio loro tre Cioè quindi Marino Jordan E Walter Per le belle parole Che hanno detto E per Come mi sopportano E supportano In tutto quello Che faccio musicalmente Bene Noi vi ringraziamo Ti ringraziamo Per essere venuto Qui a Balconi TV Trento A trovarci Da casa Grazie per continuare A seguirci Riguardatevi I video precedenti E quelli che stanno Per uscire I ringraziamenti Vanno sempre A quelli che ci ospitano Del Rifugio Bindesi E a chi sta dietro le quinte In particolare A Stefano e Fabrizio Dell'Area Musica Ciao Ciao